Sei intuitivo che te ne accorga o no. C'è una conoscenza superiore in te, è sempre lì e disponibile per supportarti. Può comunicare o esprimersi come un sentimento, una visione, una voce o una semplice conoscenza. La sfida per la maggior parte delle persone è riconoscere la propria intuizione e distinguerla tra l'ego, le emozioni e la loro mente pensante. Le conoscenze intuitive non sono come altri tipi di pensieri o sentimenti, sono silenziose, semplici, nascono da uno stato interiore di distacco e sono facilmente trascurate. Al contrario l'ego e le reazioni emotive e le conclusioni della mente pensante sono più intense, irremovibili e cariche. È quasi impossibile connettersi con il tuo centro intuitivo se ci sono degli stati mentali caotici. Tuttavia è proprio quando sei irritato, agitato o ansioso che hai bisogno della tua conoscenza più elevata. Per superare l'abisso tra il pensiero disordinato e la saggezza interiore devi eliminare il disordine e il rumore degli stati emotivi e mentali reattivi. Devi coltivare un ambiente interiore silenzioso, spazioso, che ti supporti nel riconoscere e comprendere la tua intuizione. Devi pulire la tua casa interna e in questo video vedremo come farlo in 5 semplici passi. Il primo passo è stare calmo e rilassato. Vai in un posto tranquillo dove non sarai disturbato, siediti su una sedia, chiudi gli occhi, respira. Fai un'ispirazione lenta, uniforme e lunga e poi espira. Allontana la tua attenzione dalla mente pensante e dai tuoi sentimenti. Metti la tua attenzione sul centro del tuo cuore. Guardalo come uno spazio affettuoso e affidabile del tuo corpo che ha un solo desiderio, quello di amare. Immagina un campo di amore che emana dal tuo cuore e ti circonda. Guarda ogni cellula del tuo corpo che si riempie di amore e relax. Quando la tua mente si distrae con chiacchiere, domande o lamentele, espira e riporta la concentrazione al centro del cuore. Fallo spesso ed ogni volta che senti sorgere la tensione dentro di te. Il secondo passo è quello di scrollarti di dosso i pesi del passato. Pensa a tutte quelle persone con cui hai un passato irrisolto, con cui sei arrabbiato e lascia perdere tutto. Il non perdono ti nuoce, mette in tensione il tuo corpo, blocca la gioia, ti deruba della libertà e ostacola il collegamento con la tua intuizione e conoscenza superiore. Perlustra la tua mente di tutte le persone recenti e del passato che non hai perdonato. Un amico della scuola, un vecchio fidanzato, un ex capo, un genitore, scava in profondità. Ogni volta che fai questo ti verranno in mente persone e situazioni, logiche e illogiche, nascoste nei recessi della tua mente. Cancella e crea un nuovo spazio per l'energia positiva, perdonando ogni cosa grande e piccola su cui ti stai aggrappando. Il fiore australiano Daggerachia può velocizzare tale processo aiutandoti a coltivare l'amore incondizionato e richiamando i frammenti del tuo essere persi in passato in assenza di intuizione e potere personale. Il terzo passo è distaccarti dal risultato. Uno dei maggiori ostacoli al collegamento con la propria intuizione è la tua volontà personale. La tua intuizione non ti dice cosa vuoi sentire, ti dice la verità e a volte quella verità non è desiderata. Il nostro desiderio di ascoltare il risultato positivo che vogliamo è spesso più forte della nostra conoscenza interiore. Devi distaccarti da tutti i risultati, specialmente da quello che vuoi e accettare che la vita ha alti e bassi. Ciò richiede coraggio e audacia e il vantaggio di ricevere informazioni anche indesiderate dal tuo intuito è che ti consente di prepararti e cambiare il risultato. Il quarto passo è chiedere. Nel tuo spazio pulito, dopo che hai perdonato e ti sei distaccato dai risultati, chiedi alla tua saggezza interiore quello che vuoi sapere. Il fiore popo si utilizza proprio quando stai avendo difficoltà a connetterti con tale saggezza. Se desideri trovare la guida dentro di te o pensi di averla ma non riesci ad accedervi, popo rafforza il processo intuitivo e quindi ti aiuta a trovare soluzioni ai problemi. Il quinto e ultimo passo è ascoltare. La tua intuizione non porta un orologio, non è motivata dall'urgenza, dalla disperazione o dalla ripetizione. Infatti tutte queste qualità ne ostacolano l'espressione. Per ascoltarla devi coltivare uno stato interiore di serenità. Non c'è un modo in cui la tua intuizione possa parlare, ma ti parlerà in un modo che tu capisci. Può sorgere come conoscenza, un sogno, un senso di ciò che sembra giusto o può essere una voce calma, un testo o un colore che significa qualcosa per te. Sii aperto e scopri come comunica il tuo intuito, annota ciò che percepisci e poi guarda come si svolge nella tua vita. Il fiore australiano Bush Fuchsia amplifica il contatto con l'ascolto profondo, promuovendo la connessione profonda con la tua intuizione. Se questi contenuti ti sono stati di aiuto, condividili pure con le persone che ami. Grazie per il tuo ascolto e a presto! Grazie per la visione! Grazie per la visione!